ahahah menzione speciale anche per le nostre mascotte che oggi sono tornate voi non le potete vedere ma sono qui fernando che qua dietro ciao fernando grazie di tutto Abbiamo anche la rana che fa un rumore strano quando non lo deve fare rana non fare il rumore strano non è il momento di farlo Il maiale rosa shocking dalle zampe verdi oggetto di una nostra scenetta che rimarrà sempre nei nostri cuori e sul cruscotto alla macchina di franz il pitone verde sempre anche lui verde il nano il nano il nano qual è il nano il gongolo il gongolo è vero il gongolo che è stato mascotte ufficiale di riva del garda no e le e le orecchie da coniglio oltretutto grande gadget di riva del garda che sinceramente ma non per ultimo il pisello di lana si l'ingegner wool una precisazione sulle orecchie stanno meglio a lei che a me sinceramente ragazzi ma l'avete creato tre giorni fa vi siete già dimenticati cosa come potevamo dimenticare vero dovevo dare un dettaglio scabroso però forse qualcosa di musicale ci potrebbe aiutare io vorrei fare una piccola precisazione per l'estate scusatemi non ti interrompo più poi lo giuro vai vai durante quest'estate cercheremo di mantenere aggiornato il nostro blog con video qualcosa di aria insomma quel che ci viene in mente cercheremo di produrre e di rimanere attivi anche quest'estate quindi seguiteci sul blog di bnb su raggiungive dalla pagina programmi del sito di poliradio e signori e signori in realtà fluffi non è un crescetto immaginario ma un ramarro paura ciao a tutti ragazzi ciao viva i ramarri viva fluffi grazie grazie mentre tu mi parli d'amore no non fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda mentre tu mi parli d'amore non spaventarlo ascolta anche lui ama come noi ed il suo cuore è gonfio è gonfio della nostra canzone no fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda che ci guarda che ci guarda mentre tu mi parli d'amore no non fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda mentre tu mi parli d'amore no non fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda mentre tu mi parli d'amore non spaventarlo ascolta anche lui ama come noi ed il suo cuore è gonfio ed il suo cuore e la nostra canzone no no non fuggire non fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda che ci guarda che ci guarda che ci guarda è solo un piccolo ramarro che ci guarda che ci guarda mentre tu mi parli d'amore non spaventarlo ascolta ascolta anche lui ama come noi ed il suo cuore è gonfio della nostra canzone no non fuggire è solo un piccolo ramarro che ci guarda che ci guarda che ci guarda mentre tu mi parli d'amore il ramarro per salutarvi per salutare per chiudere questa edizione ragazzi ne abbiamo dimenticate sei Sara 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 a destra Sara a sinistra Carlotta Carlotta a destra Carlotta a sinistra noi le salutiamo per le loro grandissime letterature ricordatevi Sara e Carlotta edizione limitata le nostre ragazze preferite a parte comprensione ok sto sentendo fuori siamo sono tutte le nostre ragazze preferite si si infatti grazie non so come ci hanno rifatto che c'era la considerazione grazie grazie Carlotta per averci supportato ci avete dato anche una mano con la vostra voce negli sketch e adesso credo che sia veramente tutto ste devi essere tu a farlo perché io non ho il coraggio è veramente tutto dopo 25 puntate un grazie a tutti voi che ci avete ascoltato che ci avete compreso che ci avete supportato ci avete detto bravi grazie